Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e in questo video voglio fare uno speciale su piccoli brividi, in pratica in questo video troverete il riassunto di tutto quello che ho passato nei 5 capitoli, 4 più il capitolo bonus, e vedrete tutti gli jumpscare che mi sono preso e quindi tutte le paure riassunte in un solo video. Vi auguro buona visione e buono spavento! Ci non si può giocare così. No, chi è quel? Dove mi nascondo? Apri, 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 va, infilati. Vai, vai! Vai, vai! Eh cacchio! Bè, mica morire. Basta, oramai, cominciamo. No, 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 no! Ciao, no, no, no! Sti figliati! Batteries included. Latterie incluso, dovremmo caparcela, speriamo solo che non sia l'anilator 3000. Che c'è? L'anilator 3000! Se fossi in te mi terrei lontano. Perché che succede? Che sarebbe su te? La pagina c'è. E che cos'è sta anilator 3000? Ah, il robot. No, no, non ti farai vedere! Non ti farai vedere! Non ti farai vedere! No, vedi! Ma vaffanculo tu all'anilator 3000 pure. Vattene! Vattene di là, mi voglio infilare. L'ognomo! 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 Ah, scanna l'ognomo! Infilati di qua! Infilati di qua! Infilati di qua! Ma signora! Ma signora! Ma signora! Ma signora! No! Va! Nasconditi! Quello ha detto che c'era una pagina qua nascosta! Ciao! Devi lavare i piatti! Adesso no! Adesso no! No! Come fai a vedermi? Ero nascosto! Non è giusto! Ma non è giusto, però ero nascosto! Perché mi ha visto? Che... 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 Che cos'è quella cosa? Che cos'è quella cosa? Un lupo! Il lupo! Che minchia mole il lupo mannaro! Quasi quasi preferivo la zombie! Pure il lupo mannaro c'è! Un pezzo di merda muori! All'altra pagina se non sbaglio! No! No! Vattene! 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 Entra qua! Entra qua! Entra qua! Entra qua! Porca la miseria! Porca! Pagina viene! Vinciti! Vieni qua vicini! Vieni da papino! No io sento rumori! Nasconditi! Nasconditi! Quello non è un indigno magnitevole! Acciappolo! Dove? Dove? Ma stiamo scherzando! Censi! Oh! Censi! Oh! Censi! Il pagliaccio! Pure! Do! Censi! Do! No! No! Vattene! 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 Dove? 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 Non lo vedo più! Non lo vedo più! Scappa! Scappa sotto il tavolo! Sotto il tavolo! Sotto il tavolo! Prendi la pagina! 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 Dove slappi? No! 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 Adesso no! Adesso no! Adesso no! Ma scassami coglioni! Come esco da qua! Pure il lupo! Ma sì! Entriamo dentro il corpo del pagliaccio! Tanto! Lupo è pure il cane! Il chihuahua! Che è il figlio del lupo? Ciao! Picchirino! Come ti... Oh! Oh! Guarda che stronzo di cane! Si chiama il papà! Si chiama! Oh! Sono tutti fuori! Come faccia di uscire d'acqua! È assurdo! Ma che è? Pure attraversa la porta! È un fantasma! Ma sì! Ma qua sopra c'ho un letto! Vedete che cosa dovete fare anziché cercare me! Eh! Ma non dico io! Avanti indieta! Avanti indieta! Dai! Ho bennechile per ora! Dai! Ma va! Scassami i cavoli! Vai! Oh! Ma è assurdo eh! Cos'è? Era nascosto! Ma questi si aprono pure! Veloci! Velo... Velo... La sento! Dov'è la pagina? Vattene qua! Ma non è possibile però! Ancora tre pagine! Ancora assurdo! Assurdo! Ma infatti! Second floor! Ma che coglione! Che coglione! Che mi esce! Vendi la pagina! Ma quello sotto il letto è! Assurdo! Ma dai! Ma come si fa? Dai! E si metterla! Veloce! 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 Ma è impossibile! Impossibile! Levatevi! 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 Levatevi dalle palline! Dalle palline! Levatevi! Ma dai! Ma fammi capire quello che devo fare! Oh! Mori! No! Dov'è Slappy? Slappy sta avvenendo nasconditi! Mi trovano! No! Ti auguro qua sotto mi trovo sto merdone! Se mi trovo pure da nascosto! Non vedo! Pagina! Pagina! Slappy! Slappy qua! Andiamo! Scappiamo! Scappiamo! Stronzo! Vendi la pagina! Che cavolo! Ora dove dove vado? Quello mi sta andando a spegnere la luce! Che è? Ma l'avevo colpito però! E pure lui! Quello di i malefici! Cioè io ci vado da slappio! Assurdo! No! 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 Slappy! Merda! Slappy dove è Slappy? Dove è la pagina? Non c'è un cazzo qua! Aspettate! Fatemi fatemi esplorare! Ma stronzo! You're Slappy! L'ammazzo Slappy! L'ammazzo Slappy! L'ammazzo pura te d'ammazzo! Dove cazzo è Slappy di me? Dove l'ho preso? Ammarcava un muzzo! L'ho preso! Peggio per lui che è venuto da me! Vi ho finito? Ora si! E anche il bonus l'abbiamo finito! Bene ragazzi se questo special di piccoli brividi vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un commento e un mi piace, fare lo stesso sulla pagina Facebook e degli altri social di cui trovate il link in descrizione, iscrivervi al canale e per oggi è tutto, al prossimo video! E' un sacco di leni! Ora io vorrei sapere da dove è cascata quella balena! No, io lo vorrei proprio sapere! C'è una balena... Piovono balene! Non so perché ma piovono balene! Piovono balene! Piovono balene!